Il progetto di riqualificazione di Viale Kennedy se ne è parlato anche la scorsa settimana in Consiglio Comunale mediante una sua interrogazione, Tarsi che cosa ha chiesto alla Giunta? Abbiamo chiesto alla Giunta di essere informati sullo stato dell'arte del progetto di riqualificazione di Viale Kennedy un progetto che ha una lunga storia perché è stato presentato alla città in marzo 2022 e poi se ne sono perse le tracce e quindi siamo andati a chiedere a che punto siano la progettazione e i lavori Di fronte alla risposta che la progettazione, l'inizio dei lavori potrebbe avvenire intorno all'autunno noi siamo andati a chiedere, a sostenere che in realtà bisognerebbe intervenire immediatamente perché le condizioni attuali di Viale Kennedy non sono condizioni di sicurezza allora va detto innanzitutto che Viale Kennedy è una via ad alto traffico ci passiamo tutti per andare dai quartieri interni verso le zone di Lido e Arzilla è una strada, un percorso obbligato per chi deve andare verso i licei è un percorso obbligato per chi deve andare nel parcheggio per esempio del cimitero urbano gli abitanti di Trave, del Poderino lo frequentano tutti i giorni e quindi è una strada ad alta percorrenza soprattutto quando c'è la scuola alle 8 di mattina alle 13 ci sono molti ragazzi a piedi, in bicicletta, in motorino che la frequentano ora è necessario assolutamente ripristinare subito prima che inizino i lavori per mettere in sicurezza almeno l'estate la ciclabile che non è più affatto segnalata quindi le macchine passano per la strada anche sulla ciclabile ma semplicemente perché non la vedono la ciclabile la ciclabile è come se non ci fosse ci sono spesso delle auto parcheggiate in maniera selvaggia a volte addirittura sul lato diciamo del canale che impediscono proprio il transito dei pedoni e delle bici e c'è una terza criticità molto importante che è rappresentata dall'uscita da via Morosi quindi chi da via Morosi si deve mettere su Viale Kennedy girandosi sulla destra purtroppo non vede le macchine che stanno arrivando e quindi abbiamo chiesto due interventi semplici che possano almeno mettere in sicurezza l'estate riverniciare il tracciato della ciclabile e mettere uno specchio in corrispondenza di via Morosi in modo che chi esce da via Morosi possa vedere chi arriva alla sua destra Grazie 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 a tutti